Grazie a tutti, adesso c'è l'ultimo intervento di Samuele Piscina che è il presidente di Municipio 2, pensate che il Municipio 2 copre una zona di circa 170 mila abitanti, pari a quanto è secondo me il sud est di Milano e quindi lui ci porta la sua esperienza del bilancio partecipativo, che cos'è per lui e come magari intende migliorarlo dal suo punto di vista. Sì, assolutamente, adesso lo mettiamo qua così, no dall'altra parte. Vado con il microfono? Ah ok, per la registrazione. Intanto che recupero nel sito. Buonasera a tutti e grazie per l'invito, mi fa molto piacere essere qui questa sera, vi chiedo scusa per il ritardo, ho avuto una seduta del Consiglio di Municipio fino a pochi minuti fa, quindi ho fatto una corsa incredibile e sono riuscito ad arrivare prima che finissima perché ci tenevo particolarmente ad essere presente. Municipio 2, come ho detto poco fa, ha più di 170 mila abitanti e diciamo che come numero di abitanti ci giriamo intorno alla cifra di Bergamo e Brescia, non so se l'area sud est di Milano, però Bergamo e Brescia sicuramente sì, infatti quello che noi continuiamo a ripetere al Comune di Milano nel momento in cui è un numero così importante di abitanti all'interno del territorio municipale, sicuramente invece di accentrare i poteri potresti dare qualche potere in più a chi in realtà vive il territorio, lo conosce molto bene e vuole risolvere i problemi, questo è quello che noi continuiamo a dire al Comune di Milano, purtroppo non funziona sempre così, anzi poco spesso, nel senso che di poteri ne abbiamo ben pochi, però ci diamo da fare con quei pochi che abbiamo per tentare di migliorare la situazione. Bilancio partecipativo, noi non abbiamo avuto un'esperienza, lo ammetto, voglio fare una premessa, noi abbiamo avuto un'esperienza positiva all'interno del Comune di Milano con bilancio partecipativo, anzi dobbiamo ringraziare Fondazione Cariplo, Fondazione di Comunità, so che c'è qualcuno qui presente, perché spesso e volentieri anche su degli errori fatti in passato dal Comune di Milano sono riusciti a intervenire per tentare e portare avanti dei progetti, uno di questi è sicuramente quello della piscina del Trotter, che è un progetto che era uscito dal bilancio partecipativo, come vincitore appunto del bilancio partecipativo per quanto riguarda il Municipio 2, che il Comune di Milano non aveva la sostenibilità economica per portare avanti, ma fortunatamente mamma Cariplo, perché noi ormai la chiamiamo così, fortunatamente ci sono loro che ci danno una grande mano e riescono a portare avanti quelli che sono i progetti. Noi abbiamo avuto due bilanci partecipativi, uno nel 2015 e uno nel 2017. Per quanto riguarda il 2015, io ho portato anche un elenco di quelli che sono i progetti che hanno vinto. Allora, per un costo di 550 mila Euro doveva essere fatta la piantumazione di alberi e la copertura del chiosco del Parco Francarame. Ecco, qui dobbiamo ringraziare S. Lunga, che ha sponsorizzato la realizzazione della tettoia, di questa copertura del chiosco, è un chiosco all'interno di un parco, perché grazie al Municipio, e quindi non tanto il Comune, ma al Municipio si riuscirà a fare una sponsorizzazione, S. Lunga metterà i soldi e questo intervento che doveva essere realizzato per il bilancio partecipativo del 2015, quindi ben 4 anni fa, forse, probabilmente sarà finalmente realizzato. Però capite già che solo partendo così, un intervento di quelli che avevano vinto, che era stato assicurato ai cittadini finalmente possono partecipare al bilancio partecipativo e decidere direttamente le opere che devono essere realizzate, che è una cosa positivissima, per la quale io personalmente sono assolutamente d'accordo, però in primis deve esserci la copertura economica, deve esserci una struttura adeguata che faccia dei progetti e li manda avanti in terpi seri, perché altrimenti giustamente i cittadini si sentono presi in giro. E questo è assolutamente da evitare, quindi adesso non so se c'è qualcuno di qualche comune che vuole portare avanti questa esperienza, però sicuramente il primo suggerimento che vi posso dare è fate molta attenzione alla struttura, alla copertura economica, perché i costi comunque si lievitano e questo è un dato di fatto. Nella pubblica amministrazione qualsiasi imprevisto fa lievitare i costi, costi che comunque già all'interno della pubblica amministrazione sono alti rispetto al privato, quindi un calcolo adeguato fatto per la realizzazione con dei progetti fatti preliminarmente in modo tale da capire quanto realmente può costare è assolutamente fondamentale. La stessa cosa si sta verificando anche per realizzazione dell'intervento di una piantumazione di alberi, cose che i comuni solitamente fanno tranquillamente. Mi hanno dovuto portare avanti noi come municipio nei confronti di comuni di Milano, grazie comunque a un appalto che ci ha aperto con una ditta che fa la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde, per far sì che questi alberi vengano piantumati. Ora, il problema lì qual era? Dobbiamo avere degli alberi, perché dal bilancio partecipativo è uscito, gli alberi devono essere di una certa dimensione, perché gli alberi piantate all'interno di questo parco, franca rame, erano degli alberi che erano piccoli, erano giovani, dovevano crescere nel tempo. Quindi il comune risponde, no, ma noi non possiamo, ha vinto il bilancio partecipativo, ma noi non possiamo mettere gli alberi di una certa dimensione. Ok, non possiamo mettere una certa dimensione, però li mettiamo più piccoli. Allora i cittadini poi non andava bene, perché giustamente vogliono delle zone d'ombra anche loro. E si era creato questo Prico, che obiettivamente non aveva permesso di mandare avanti quello che era il bilancio partecipativo. Fortunatamente siamo intervenuti, abbiamo trovato un accordo noi tra i cittadini e l'ambiente e l'assessorato a partecipazione del comune di Milano. Sembra che teoricamente adesso possa andare avanti la piantumazione di questi alberi, una piantumazione che, ripeto, comunque il comune di Milano fa normalmente tutti i giorni e quindi non si capisce per quale motivo ci sia voluti quattro anni per trovare una soluzione, per portare avanti un'opera così semplice del bilancio partecipativo. Le case dell'acqua, dovevano essere installate delle case dell'acqua, cosa che penso abbiate anche qua nei ditori, all'interno dei parchi del municipio. La risposta da parte di MM è stata non se ne parla fino al 2020, perché comunque non ci sono i soldi per acquistare queste case dell'acqua, che per carità, io non metto in dubbio che sia vero, è sicuramente così, però bisogna dirlo prima ai cittadini se non c'è la copertura economica per acquistarle e per fare questo tipo di intervento, non a posteriori, perché, ripeto, altrimenti vengono presi in giro. La realizzazione di orti in via Rò, anche quelli totalmente bloccati, doveva essere fatto un bel intervento anche di riqualificazione lungo il naviglio Martesana, quindi in un'area molto di pregio, dove dovevano essere poi messi a bando la realizzazione dei vari orti e anche in quel caso ci ritroviamo in una situazione con nessun progetto ancora realizzato, il tutto completamente fermo. È stata fatta la pulizia delle spondelle a Martesana, quello è stato fatto grazie alla polizia locale e grazie ad AMSA che si sono messi insieme e hanno lavorato affinché fosse fatta un'operazione di questo tipo. Non è durata molto, perché poi gli incivili li troviamo in qualsiasi comune, per carità, però quello diciamo che era costo zero e quindi si è riusciti a farlo senza nessun tipo di problema. Il recupero della casa dell'ex custode del parco di Villa Finzi, all'interno di un parco storico bellissimo, con una villa immensa che ha diversi servizi all'interno, doveva essere recuperata questa casa del custode, perché il comune di Milano non tiene più i custodi all'interno dei parchi, piuttosto che nelle scuole, perché troppo costosi, doveva essere date a fini sociali. Ancora oggi siamo lì a parlare con l'assessorato ai lavori pubblici, piuttosto che l'assessore al verde e l'urbanistica essendo all'interno del parco, per tentare di recuperare questa casa che potrebbe essere data, tra l'altro c'è anche una scuola all'interno di questo parco, potrebbe essere data anche ai bambini per realizzare l'orto, avendo un bel giardino al di fuori, oppure ai cittadini, ai comitati, alle associazioni che volevano realizzare anche una biblioteca di quartiere, piuttosto che un punto turistico per diffondere i punti principali presenti all'interno del quartiere di Gorla e in particolare all'interno di un parco che è storico. La nuova pista ciclabile con segna elettica in via Porto Corsini fino al ponte di Greco lungo via Breda, non se ne ha nessuna notizia possibile e immaginabile, ma sotto un certo punto di vista, adesso parlo da politico e non da istituzionale, forse è meglio così perché era un po' complicato a realizzarla avendo dei passaggi anche sotto i ponti molto stretti e che quindi non ci sarebbe stato lo spazio per mettere una pista ciclabile, quindi poi ci si scontra anche con quelli che sono i progetti irrealizzabili e quelli che sono i progetti irrealizzabili, i progetti irrealizzabili però, ripeto, un consiglio ai comuni, ditelo subito ai cittadini se non sono realizzabili perché nel momento in cui lo approvate, dite ha vinto il bilancio partecipativo e poi non viene realizzato, siamo sempre alla solita solfa. Qui l'ultimo intervento del 2015 era la realizzazione dell'area dell'ex piscina del Parco Trotter che grazie a Fondazione Cariplo sono stati trovati i fondi, c'è un bando che mi sembra che sia stato già assegnato se non ricordo male e quindi prossimamente immagino che inizieranno i lavori. Questo è ancora il 2015, capite che sul 2015 è stata portata a casa sicuramente la riqualificazione dell'ex piscina del Parco Trotter, è stata portata a casa la pulizia delle sponde, però tutto il resto obiettivamente non è stato portato a casa. I costi erano 500 mila Euro più un milione per quanto riguarda la parte dell'ex piscina del Parco Trotter, era stato quantificato in questo modo. Nel frattempo in cui non è stato realizzato il bilancio partecipativo del 2015, il Comune di Milano ha pensato bene di fare il bilancio partecipativo 2017. Un bilancio partecipativo con dei costi sicuramente ridotti, hanno abbassato di molto quelle che erano le cifre del primo bilancio partecipativo perché si sono accorti anche loro che era insostenibile, era impossibile portarlo avanti e poi così tanti interventi con così tante progettazioni e così pochi soldi, obiettivamente era improponibile portarlo avanti. Un bilancio partecipativo del 2017, alla quale stiamo vedendo oggi nel 2019 i primi incontri per tentare di capire come realizzare l'opera. Ha vinto un progetto su Via Padova, un progetto che in pratica vede una riqualificazione di alcuni incroci, di alcune aree, in particolare una davanti all'anagrafe di Via Padova all'interno del Municipio 2 di Milano. È chiaro che adesso abbiamo fatto il primo incontro, ovviamente abbiamo fatto notare quelle che sono alcune difficoltà rispetto al progetto che hanno fatto i cittadini, in primis automobili. È chiaro che davanti a una sede dell'anagrafe un parcheggio deve esserci perché altrimenti il cittadino, in particolare magari i cittadini che hanno problematiche dal punto di vista motorio, devono poter parcheggiare la macchina. Nel progetto iniziale, quello presentato dai cittadini e che non abbiamo capito se il Comune di Milano vuole portare avanti in questo modo oppure vuole ascoltare la nostra segnalazione, non prevedeva nessun tipo di parcheggio, ma prevedeva la rimozione di tutte le automobili per fare una bella piazza, che sicuramente è bellissima, però bisogna guardare anche l'aspetto funzionale. È chiaro, è evidente che nel momento in cui si fanno un certo numero di cittadini che si associano e riescono a portare avanti una questione di un progetto di un bilancio partecipativo, vincono questa possibilità data dal singolo Comune, non tutti saranno mai contenti, per carità. È anche vero che però ci vuole sempre una parte politica che, al di là di quello che è il progetto, ragioni su quello che realmente si può fare e su quello che si deve fare, perché la funzionalità del progetto, al di là del fatto che i cittadini indichino che quell'area deve essere riqualificata, siamo tutti d'accordo, ma attenzione, esempio del parcheggio, il parcheggio davanti all'anagrafe deve esserci necessariamente. Quindi quello che io vi posso riportare è una mia esperienza negativa, perché ho molti cittadini che ancora oggi arrivano dicendomi che il Comune di Milano ci ha presi in giro, noi oggi non vediamo ancora quelle che sono le opere. Questo è un problema, perché nel momento in cui si dà la possibilità di partecipare attivamente ai cittadini, bisogna avere anche gli strumenti per far sì che vengano portati avanti i loro progetti. Quindi facciamo molta attenzione, i progetti prima ancora che vengano messi a votazione devono essere sicuramente concordati, a prescindere con l'amministrazione comunale, perché se poi vince un progetto e l'amministrazione comunale lo disfa totalmente, non ha nessun senso logico. Allora, prima ancora di portare avanti quelli che sono i progetti, di mettere la votazione sulle varie piattaforme online, sicuramente un tavolo tecnico con chi ha realizzato il progetto e le realtà territoriali e il Comune deve essere fatto, in modo tale di non creare delle aspettative che poi non vengono rispettate. Nel momento in cui poi viene approvato il progetto, si porta a votazione e vince quel progetto, sicuramente devono esserci le coperture economiche e la possibilità di fare un progetto che venga realizzato in tempi brevi, che poi lo sappiamo che la pubblica amministrazione non ha tempi così brevi, però adesso parliamo del 2015, ci ritroviamo nel 2019 e anche quelle cose più piccole, le più semplici che potevano di fatto essere realizzate, ci troviamo ancora nella situazione di dover aspettare, cercando una soluzione alternativa come municipio, perché il Comune di Milano non riesce ad attuare queste opere, se non grazie aiuti esterni come Cariplo o S.Lunga. Quindi la situazione è questa, penso che sia una sconfitta per la democrazia diretta, ciò che ha provato a portare avanti il Comune di Milano, per mancanza di organizzazione sicuramente sono convinto che altri comuni, magari comuni più piccoli, riusciranno nell'intento, ma anche perché probabilmente in un territorio più piccolo, meno vasto, vedendo anche le esperienze negative degli altri, sicuramente riusciranno a imparare da quelle situazioni. Il Comune di Milano obiettivamente ha avuto tante difficoltà e continua ad avere tante difficoltà. Io ho potuto riportarvi solo la mia esperienza diretta, credo in questa possibilità perché ci credo fermamente, ci credo però bisogna avere una buona organizzazione, quello sicuramente sì, ci vuole. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.